buonasera a tutte e a tutti grazie della costanza con cui in questi due giorni siete qui e noi iniziamo in due ma presto saremo in tre a ballare l'alligalli e ci mettiamo in questa maniera in cui la regia ci ha chiesto sono qui intanto vi chiederei di accoglierlo con un affettuoso applauso con Gianluca Costantini naturalmente sappiamo tutti chi è intanto perché è un collaboratore di domani e chi c'è la comunità affettuosa di domani benvenuto Gianluca con noi la brava intervistatrice dovrebbe dare del lei ai suoi interlocutori facciamo che declinate a lei darò del tuo a Costantini però disegnatore autore di graphic novel artista attivista poi ci spiegherà che cos'è perché questo incontro si intitola il disegno e politica sembra una banalità ma vedrete che non è tanto banale e soprattutto se mi permetti Gianluca Costantini è il tratto di un volto che noi abbiamo visto in giro per il mondo grazie proprio al tratto di Gianluca Costantini in particolare l'abbiamo visto a piazza maggiore di Bologna che a noi piace chiamare piazza grande e nella parete del palazzo dei notai ed è il volto di uno studente dell'università di Bologna che si chiama Patrick Zaki e che noi aspettiamo che torni a Bologna bene sì dedichiamo questo applauso a tutti noi perché non dobbiamo scordarlo sapete dove sta e Gianluca Costantini ha fatto questa immagine di Patrick che ha fatto il giro per il mondo poi ti faccio le domande quelle per bene fatte da brava diciamo da brava cronista ma perché quella tua immagine di tante che ce ne sono state di Patrick secondo te ha funzionato così tanto? ma quell'immagine è stata fatta un'ora dopo esattamente dell'arresto all'aeroporto del cario di Patrick alcuni attivisti mi avevano chiesto proprio in quei minuti di fare qualcosa perché un ragazzo che veniva da Bologna ma egiziano era stato arrestato ed era scomparso all'interno dell'aeroporto quindi il disegno è stato fatto di getto in tipo otto minuti penso perché avevano urgenza di avere un'immagine su Patrick perché avevano solo delle foto che non avrebbero bucato subito sui diritti umani io faccio continuamente dei disegni di questo tipo e vengono sempre richiesti dagli altri non li faccio quasi mai di mia spontanea verità volontà sono famiglie, attivisti, giornalisti, amici di queste persone quello di Patrick quindi subito è stato preso e twittato dalla comunità egiziana e subito dopo da Amnesty International sia International International e quella italiana soprattutto e il disegno ha seguito il flusso della vicinanza delle persone a Patrick Zacchi nel senso che è un'attività quasi un movimento popolare che forse dagli anni 90 non succedeva in Italia è un movimento incredibile sui diritti umani che partendo da Zacchi adesso si sta poi spargendo in tanti altri casi le persone sono pronte ad affrontare anche gli altri casi egiziani, turchi, russi, cinesi di qualsiasi paese quel disegno però ha qualcosa di particolare forse perché le persone se lo sono trovate ovunque soprattutto in piazza maggiore come diceva Daniela era grande 30 metri quindi nessuno lo sapeva un giorno le persone sono andate in piazza e all'improvviso c'era questo disegno che sembrava incollato nella realtà non sembrava vero sembrava un fotomontaggio reale e quello non ha fatto altro far sì che Bologna gli studenti, le università, i centri sociali, il sindaco, tutti hanno ancora spinto di più per la sua richiesta diciamo che è proprio un abbraccio di Bologna a Patrick. Siamo molto orgogliosi noi di domani di avere Gianluca Costantini con noi a bordo perché questa cosa ci rende molto orgogliosa Costantini fa tante cose oltre a queste perché è un attivista però volevo dire io comincerei così noi naturalmente sapete che stiamo aspettando un venerato maestro come direbbe Cottafavi che è Sergio Staino che sta per arrivare però cominciamo dalla giovane promessa no tanto giovane promessa no perché sei giovane perché hai la mia età circa però insomma rispetto a Staino sicuramente sei un po' più giovane questo sì 30 anni sì quella citazione di Arbasino sapete che conteneva una terza opzione no? i venerati maestri, le giovani promesse esatto spero di non dover fare io quella parte ecco così comunque noi intanto cominciamo con le promesse in realtà promesse già mantenute ma Costantini non è stato sempre un disegnatore di politica oggi parliamo di politica in questo dialogo che ha due che presto diventerà tre tu in realtà eri un come si dice un fumettaro un fumettista non ti occupavi di politica prima di incontrarla com'è stato questo incontro con la politica? ma è venuto molto lentamente ero completamente apolitico antisociale punk ce l'avevo tutte contro questo sistema ma anche quello in verità era politica perché anche l'arte stessa è sempre politica quindi è quando io penso che se uno disegna nei giorni nostri dei paesaggi delle nature morte è quella la politica che fa vuol dire che gli va tutto bene nel mondo io quindi negli anni ho cominciato a cambiare sempre di più e per i dieci anni di mia attività ho fatto il fumettista classico pubblicavo per riviste, per qualche quotidiano e poi man mano ho avuto la necessità di uscire dallo studio di andare in giro con le altre persone mi annoiavo stare lì a disegnare dopo dieci anni volevo fare cose che gli altri potessero usare soprattutto e ci è voluto tanto tempo perché mi sono anche dovuto istruire nel senso autoistruire su tutto quindi per esempio ho iniziato a raccontare le grandi proteste di piazza che avvenivano negli anni 2012-2013 tipo Kupaighezi di Istanbul, quella di Piazza Tahir, poi quelle di Hong Kong e lì ho incominciato proprio a capire che potevo far parte da lontano grazie alla rete di queste proteste cioè realizzavo disegni che loro potevano usare durante le manifestazioni che loro potevano condividere, che loro potevano usare nelle maniere più strane e quello è stato il mio primo passo per entrare nel mondo e studiare anche quei luoghi ma la rete ti ha, ovviamente, dopo parleremo con Staino che è nato in un mondo dove la rete non c'era e quindi ha cominciato sulle riviste e poi sul giornale che è stato il suo giornale, la sua casa che è stata l'unità tu invece hai iniziato che c'era già di fatto la rete o ancora no? non c'era ancora no però la rete, ecco, capisco che è una banalità ma la faccio senza complessi questa domanda banale quanto ha cambiato la presenza perché tu sei un autore che circola tantissimo in rete quanto ha cambiato il tuo lavoro? perché la rete poi tra l'altro è fatta di personaggi che tendono, diciamo, ad avere la voglia di utilizzare gratis il lavoro degli altri sì, io considero la rete una realtà quindi una parte della nostra, una quarta realtà quindi per me Twitter, il mio profilo Twitter è il mio studio quello che creo lì, che è libero completamente non è neanche commissionato dal domani cioè io tutti i giorni realizzo cose che metto in questo profilo che è internazionale si è creato in dieci anni un seguito di persone a cui interessano veramente quelle cose quindi quelli che dicevo prima gli attivisti, i giornalisti, le persone tutta gente che segue quelle notizie che vuole difendere certe persone e non è un profilo mainstream anche senza essere mainstream a quasi 70.000 persone che lo seguono ma è utile che siano così nel senso che quando è per quello che poi i miei disegni penetrano così tanto quello di Zacchi io l'ho fatto in 5 minuti ma c'era un'entroterra molto pieno di gente che quando io avrei messo quel disegno l'avrebbe usato tutti gli attivisti ediziani di cui avevo parlato tutte le persone che erano nelle carceri le famiglie di quelle persone tutti avrebbero appoggiato la casa di Zacchi quindi è proprio una famiglia che si muove attorno al disegno solo in questa maniera l'arte può andare a cambiare le cose può cambiarle solo quando è nella società sono gli altri che la usano ma poi come funziona? questo è gratis diciamo questa è la parte che tu fai gratuitamente che rapporto c'è? perché uno poi deve vivere quando fa l'artista e l'attivista come te l'attivista forse no perché in genere il volontario non ha un salario perché altrimenti non è un volontario però insomma quando uno fa l'artista deve campare pure quindi come è il rapporto tra quello che tu fai nella rete così apertamente che noi guardiamo rituitiamo facciamo circolare perché ci piace e quello che tu invece fai per lavoro ci fissano ce l'abbiamo ce l'abbiamo? è arrivato? non ti dimentichai la domanda però eccolo è stato molto generoso a venire qui perché fino a poche ore fa stava dirigendo presiedendo il premio Tenco che ha affidato io ringrazio di grande cuore a nome di domani e di tutta la comunità di domani il maestro Sergio Staino benvenuto benvenuto Sergio grazie adesso ti accompagno grazie grazie ho pensato che fossero per me invece erano per lei no 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 erano per te io non c'entro niente umile cronista io sempre non ti preoccupare maestro è tutto per te allora grazie è la prima volta che mi chiama maestro è un bugiardo ma voi lo sapete lo fa di mestiere essere bugiardo allora mettiti qua che io mi metto di là vieni qua grazie aspetta lo so che non vedi un altro poco e qui c'è una sedia mi posso levare questa? certo è qui è molto generoso eccola qua la sedia la senti e vorrei che l'ironia non mi manca ecco questa è una grande una grande cosa l'ironia ragazzi capito una grande quando uno non manca l'ironia poi finisce a lavorare sul fatto qualcuno è venuto via dal fatto no qualcuno si qualcuno è venuto via dal fatto per quello perché era ironico e quindi mi ha battuto ironico assolutamente abbiamo molto apprezzato prego siedi e siedi ti sento nervosa no 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 sono tranquillissima sì sono contenta che tu sei voluto voluto essere con noi dopo prego Gianluca uno perché mi ha invitato te due perché mi sembra un giornale interessante pieno di voglia di fare belle cose quindi grazie in questo senso venivo volentieri stavamo discutendo siamo lontani noi non così lontani allunga la mano ci siamo sì 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 così vicini così lontani no ci siamo allora avevo chiesto a Gianluca Costantini che è qui con noi che è appunto il disegnatore che sai e stavamo parlando del suo disegno di Zaki che è andato in giro per il mondo e il questo nostro dibattito si intitola abbiamo 32 minuti questo te lo volevo dire quanto? 32 e che dico il 32 minuti? allora intanto potresti cominciare io ho detto ho chiesto a Gianluca come come hai incontrato la politica certo che tu l'hai incontrata qualche anno prima però insomma ci potresti raccontare come hai incontrato Bobo perché come voi sapete Staino è il padre di Bobo forse il contrario Bobo è il 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 badante di di Staino direi così che dici allora tu l'hai incontrato a un certo punto perché tu eri un comunista sapete Bobo chi è per i più giovani è il diciamo l'alter ego di Staino ma soprattutto un militante del PC e poi dei successivi molto disincantato un po' insomma così un po' disincantato che Bobo ha fatto a lungo lunghissimo sull'unità venendo da essendo stato prima un militante del partito comunista italiano poi ha deciso che il partito comunista non era rivoluzionario per fortuna no eh e a quel punto è diventato un fumettista un disegnatore statilite un vignettista prego Staino dillo tu sono diventato disegnatore e ho fatto Bobo nel 79 e c'è stata una situazione molto molto critica della mia vita in quegli anni lì perché il primo maggio del 79 sono uscito dal PCDML partito che si rifaceva al partito comunista originario quello fondato a Livorno nel 21 e nel 66 Fosco di Nucci con altri aveva dato vita a questo partito comunista marxista deninista contro il revisionismo del PC e così via ci sono stato sono entrato lì dentro nel 69 e ci sono stato ben 10 anni un tempo lunghissimo lunghissimo e ho sofferto molto 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 perché al di là delle speranze che portavo lì dentro e a cui con un atteggiamento però sbagliato insomma perché io pensavo che avevo tutto da imparare che c'era qualcosa che non mi tornava non era perché era sbagliata ma perché ero cretino io che non lo capivo e su questo credo che molti comunisti hanno costruito comunisti soprattutto fuori dall'Italia hanno costruito imperi terribili su questo atteggiamento e quando proprio non ne potevo più non era possibile non tornava a nulla erano solo guai erano finivamo avevo una paura enorme di finire nel gorgo del terrorismo perché quando comincio a dire le masse non capiscono niente le masse vanno istruite le masse vanno di qui le masse vanno di là e quando arriva poi il momento lo stalinismo quando è nasce lo stalinismo quando qualcuno molto in alto nel partito dice guarda questo fatto che è successo non ne parlate perché le masse non capirebbero quindi mettiamolo da una parte da quel momento nasce lo stalinismo perché tutto tutto quello che viene fatto contro le masse tutto quello che è delittuoso viene giustificato dal fatto che è fatto a fin di bene e io questo l'ho fatto e l'ho creduto e l'ho difeso insomma ero arrivato prima ancora di entrare nel partito comunista mi ero divorato tutto Brecht naturalmente Brecht l'insegnamento maggiore che mi aveva dato Brecht è contenuto nella sua poesia ai posteri quando dice noi noi che che dovevamo aprire la strada alla gentilezza noi non potemmo essere gentili che era una frase meravigliosa bellissima che che giustificava qualunque tipo di violenza perché noi non potevamo essere gentili quindi ne dovevamo per forza non è che io posso essere gentile per quella ragione là che tu sai come neanche io posso essere gentile vorrei che tu mi arrivassi a Bobo a Bobo come arriva a Bobo sulle pagine dell'unità una stronza ragazzi come ma che c'è anche la c'è la murgia tra un po' c'è la murgia che sarà sarà più diciamo incisiva di me anche non c'è qui adesso posso parlare liberamente come maschio no devi rispondere su Bobo almeno a una domanda rispondimi anche li voglio bene a questa donna ti dico questa cosa qui per ditti da che trauma sai cosa vuol dire uscire da questo trauma sai cosa vuol dire allora quando io sono uscito e ho rotto ho rotto con la politica ho detto non ne voglio sapere più niente né di Albania né di Cina né di Russia né di partito comunista né di partito tanto non ci capisco un cazzo ho sbagliato tutto completamente avevo fortunatamente una moglie che adoravo trovata sarebbe una storia a sé per raccontarla una bambina di 4 anni una bambina di 4 anni Ilaria e in questa fase insegnante di educazione tecnica e ormai col culo per terra laureata in architettura ma fa etto mai più l'architetto perché il partito me lo impediva perché io dovevo andare a fingere manifesti si doveva fare altre cose si doveva fare la rivoluzione sconfiggere la lotta continua tutte queste cose qui quando mi sono liberato ho detto basta a questo punto guarda Bruna per arrivare in fondo al mese io disegno faccio disegnini carini mi provo a fare una striscia satirica ma non satirica di fatica la politica di satira di costume di ironia di cose di politica non ne voglio in qualsiasi paese mi sono messo il 10 ottobre del 79 mi sono messo al tavolino e ho detto a lei guarda allora io provo a fare questa cosa oggi il 10 ottobre del 79 il 10 ottobre dell'80 e tiro un po' le somme di dove sono riuscito ad arrivare se continuare su questa strada o fare altro messo il mio tavolino ho pensato un personaggio a qualcosa a cosa fare ho pensato un animaletto che forse era bellino però erano tutti occupati paperini topolini due coccodrilli tutto tutto era scusate non ho spento vabbè lasciamo è una è una bellissima ragazza sarda si chiama Ambra pintore musicista e cantante meravigliosa che abbiamo portato liquidiamola però perché questo c'è da fare con me scusami mi resta per me mi metto me lo sai chiudere te io non so è un iphone attrezzatissimo dovrebbe rispondermi fare cose ma non ci riesco e quindi mi sono messo sono stata gentile però si grazie si tieniti se ve lo speci adesso finiamo questo discorso stai allora a un certo punto ho avuto l'illuminazione della mia vita la più grande illuminazione ho detto scusa ma che animalino fai te stesso racconta te stesso mi ero fatto un disegnino satirico di me la mia moglie e la bambina in un disegnino di casa ho detto fai te fa la tua famiglia racconta i fatti familiari le aggeggi le cose e quindi mi sono messo lì ho disegnato Bobo e il Bobo che ho disegnato che ero me stesso come l'ho disegnato come è rimasto fino ad oggi non ho avuto il minimo cambiamento normalmente se voi vedete anche il topolino di 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 Walt Disney il paperino di Karl Marx dalla prima versione lo stesso Charlie Brown nelle prime versioni è un po' diverso da quello che sarà il Charlie Brown classico il mio Bobo parte direttamente ed è successo ed è successo cara signorina invece che raccontando fatterelli di famiglia siccome la mia era una famiglia una delle tante famiglie italiane però di sinistra con una direzione progressista con tutti i problemi dei progressisti quindi di educare bene i figli di vestirli in modo decente di mandarle a scuola di farli studiare di cercare che non diventassero un po' troppo cattolici insomma tutte queste cose qui che ci riguardava ho cominciato a raccontarle queste storie qui e e e immediatamente le cose hanno funzionato le ho fatte le ho fatte alcune strisce le ho fatte vedere a degli amici gli amici ridevano come matti e dicevano guarda sono splendide però non possono avere successo perché sono troppo legate a noi troppo legate alla nostra generazione troppo che gli altri non la possono capire non la possono capire però io continuavo a farle e questi continuavano a ridere sempre di più in 22 giorni 20 giorni no in 18 giorni ho fatto 52 strisce usando lo schema di Charlie Brown 4 quadratini in in successione il primo quadratino pone il problema il secondo lo sviluppa il terzo ha il tempo comico o un elemento di di rottura e la battuta finale questo era lo schema fatto e ha funzionato le ho presi le ho mandati gli ho detto ero iniziato pensando di pubblicarli su 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 l'informatore di Scandicci che era il giornale della della confessa recente dove dove sono di Scandicci sì quel signore Scandicci poi è arrivato arrivato rogari a darci è arrivato un altro signore Scandicci gli ho mandati alla fine in una botta di grande vanità perché tutti ridevano ridevano l'ho mandato a Del Buono e Del Buono mi ha risposto insomma io l'anno il 10 ottobre dell'ottanta passato l'anno ero diventato un famoso disegnatore avevo articoli ricensioni richieste di lavoro da tutte le parti Staino ti devo fermare ti devo fermare perché ti devo fermare non siamo ancora arrivati al bobo dell'unità se mi prometti pensate a fare all'amore con questo signore ma non ci pensate proprio non ho l'età che ti fermano i preliminari io sono i preliminari non ti preoccupare lei ogni ogni 30 secondi mi ferma i preliminari facciamo un'intervista non dobbiamo fare allora se mi dici per cortesia perché poi volevo volevo come lo dico io se non lo dici tu Macaluso il direttore dell'unità ti chiamò a prendere in giro il suo partito senza parlare del Nattango e me lo dici però in un minuto perché poi vorrei parlare con Costantini che qui ci ascolta ti ascolta che ha da dire anche lui delle cose sì in effetti sono stato dopo tre o quattro anni tre anni che stavo avendo successo su Linus vengo contattato dall'unità un caporedattore che non conoscevo fosse diventato molto amico Carlo Ricchini di La Spezia persona meravigliosa che mi dice ma sai perché non ci fai delle vignette sull'unità Macaluso ci terrebbe Macaluso era stato appena appena nominato direttore dell'unità io le vignette sull'unità voi siete pazzi no 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 figurate che centro io con l'unità che centro che centro assolutamente no però prima di questo era successo un fatto insignificativo perché avevo fatto una striscia di Linus su Linus della famiglia di Bobo Bobo e Bibi che fanno colazione la mattina che era proprio la nostra cucina con un caminetto il cappuccino stava facendo colazione c'è la radio e dalla radio esce una musichetta poi improvvisamente la musichetta si trasforma in vento in neve poi tutto un paesaggio di vento di neve di cavalli di frisia fili spinati che cominciano a prendere la cucina tutta la cucina si trasforma in un campo di guerra con dei soldati bolshevichi che avanzano con i bambini mangiati in braccio che mangiavano i bambini una cosa terrificante tutta la neve alla fine andava via tutto la cucina era piena di stalattiti anche dagli stessi cappuccini uscivano la stalattite con tutto il freddo e la radio diceva avete ascoltato l'editoriale di Gustavo Selva perché tutte le mattine alle sette e mezzo quando dovevo andare a scuola a insegnare mi sentivo questo editoriale che questo era terrificante che pur non essendo un comunista ti faceva ghiacciare la pelle perché era tutto sparato contro la sinistra in un modo orribile siamo a Scandicci con la mia bambina a fare qualche compra non so per cosa e lei tranquillissima fa guarda babbo quelli siamo noi come noi guardo c'è un manifesto attaccato sul muro di Scandicci che c'è scritto tutta la striscia che vi ho raccontato riprodotta sul manifesto e sotto c'è scritto Gustavo Gustavo Selva direttore del Tg1 no primo diritto civile una giusta informazione partito comunista italiano ta falce e martello ti hanno subito rubato il copyright ma che stronzi ho detto ma come non mi hanno detto nulla ma in che mondo siamo neanche una telefonata per dire Sergio possiamo usare no l'hanno presa e messa dopo qualche giorno mi arriva un rotolo di questi manifesti in omaggio grazie al cielo mandati da Fabio Bussi responsabile allora di stampa e propaganda con una letterina che dice caro Staino scusaci ma questa tua striscia ci è piaciuta così tanto che ci abbiamo fatto questi manifesti non ho avuto il tempo di avvisarti ma tanto so che sei un nostro iscritto e quindi sei sicuramente d'accordo due bestialità due falsità in uno uno non ero il loro iscritto e quando mai un iscritto al PC è stato d'accordo con la direzione del partito ma molto raramente molto raramente va bene non siamo arrivati a Macaluso ma che questo è stato l'inizio del corteggiamento non riuscirò vivo da questo dialogo quando Macaluso quando mi ha chiamato Macaluso io ho messo una serie di no crescenti perché non sapevo bene che per motivare il mio no perché di sinistra ero di sinistra ma mettevi dico ma io non posso fare un bobo pieno di dubbi di ripensamenti su un giornale in cui diffondete solo il verbo incontrastato del comitato centrale no 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 io se vengo lì scrivo quello che mi pare tocco quello che mi pare sì ma noi vogliamo dice Macaluso noi vogliamo che tu sei così io lo so voi all'inizio promettete promettete no ma sul serio vedrai poi io voglio se lo faccio lo voglio uno spazio grande riquadrato ben bene a vedere che non c'entra con il resto del giornale con il mio nome grosso a capire che è una cosa diversa dal giornale sì te lo diamo certo poi voglio se vengo voglio la domenica perché la domenica stampavano vendevano insomma sapete come è andata ti devo fermare perché so che non uscirò viva da da questo da questo dialogo la stanza quando gli ho detto guarda poi io però prenderò in giro voi e lui mi ha detto è quello che voglio e lì mi ha mi ha stroncato ho detto come è quello che voglio non l'ho capito perché era un grandissimo non l'ho capito e invece lui l'aveva in mente lui voleva una l'unità che distruggesse la visione ecclesiastica stalinista del partito comunista fermati per favore ti prego non uscirò viva siamo almeno arrivati all'unità voglio dire siamo almeno arrivati a ricordare Macaluso che con questo gesto molto forte prende in giro il suo partito e anche un po' se stesso ad avercene direttori che hanno questa ironia io però vorrei tornare a Costantini che invece diciamo ha un rapporto con certi politici un pochino più un pochino meno scansonato tu sei considerato un terrorista tu sei un terrorista per il governo turco sono un terrorista prima qui abbiamo avuto il sottosegretario Amendola che ci diceva appunto ci faceva un po' il ritratto di Erdogan e perché Erdogan ti considera un terrorista e anche un questa è molto grave però terrorista forse meno grave anche un antisemita raccontaci perché sono un terrorista per il governo turco dal 2016 sono stato processato in contumaccio ad Ancara per i disegni che avevo fatto durante il fallito colpo di Stato soprattutto per un disegno di Erdogan dove la bandiera turca gli colava sul viso come se fosse sangue ma in verità in quel momento andarono a colpire tutti quelli che lavoravano su certi argomenti per quello che avevano fatto prima io avevo lavorato molto come vi avevo detto prima per la protesta di Occupy Ghezi e tutti quelli che hanno lavorato su quella protesta o hanno fatto cose di attivismo su quelle sono stati incarcerati in Turchia e anche molto su un avvenimento che è successo in una città che si chiama Cizra al confine con la Siria e una città kurda quindi con la scusa del colpo di Stato e quel disegno che naturalmente se volete offendere un turco dovete parlare male della bandiera turca si sa come colpire hanno voluto zittirmi e hanno censurato tutte le mie pagine tutti i miei blog i profili hanno chiesto a Twitter di cancellarmi il profilo Twitter si è rifiutato da allora ho aumentato l'attività naturalmente contro il governo turco perché è una medaglia questa non è una anche noi lo pensiamo qui persino in compagnia del Presidente del Consiglio sono un po' in imbarazzo però a questo punto obiettivamente perché perché nessuno mi ha detto che dovevo discutere con qualcun altro che non conosco che non so nulla io ho fatto corri 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 per lasciarmi per raccontare la mia storia non so niente di questa cosa che Costantini io sono certa che di avertelo detto forse ti sei sventicata perché non sono così rincoglionito no no questo mi spiace ma sono certa di aver te lo detto però lo ascoltiamo insieme e ascoltiamo la sua storia come lui ha ascoltato la tua ma se io ho 32 minuti e adesso saranno 12 che cavolo ci sto a fare qui mi sembra mi potevi dire rimani a Sanremo e non fare questa sfaticata per arrivare fino a qua e per stare zitto a sentire una cosa che in questo momento non mi riguarda o a tagliarmi quando sto raccontando delle cose che se vuoi sapere chi è bobo devo un po' raccontare certo Costantini comunque è un grande artista ma non lo metti in dubbio ma figurati se non lo metti in dubbio ma allora potevi fare Costantini prima mentre io correvo qui e poi fare me ma a questo punto star qui a sentire un'altra cosa io vi scuso vivamente ma me ne vado ciao io spero di no io spero di no Sergio io ieri sera ero ancora a guidare il Tenco sono distrutto sono colto ho fatto una corsa enorme per venire a raccontarvi queste cose non per dividere cinque minuti ti sto mettendo il microfono per farti sentire altrimenti nessuno ti sentirebbe non mi puoi trattare in questo modo io lo so lo sono innamorato di te no no non devi essere innamorato di me devi restare qui e stare con noi resto qui per disciplina di partito perché sono un vecchio stalinista meno male però attenti a organizzare bene le cose insomma tu credi nella se c'è Staino se c'è Staino sì ma c'è Staino a cui è stato raccontato che c'era un dialogo io ti giuro va bene va bene dai adesso finiamo ti giuro sull'Erin Stalin e anche Trotsky no sono tutti morti non benissimo ecco quindi è facile giurare sull'Erin e Stalin e Trotsky adesso posso su Trump va bene allora Costantini io mi scuso invece per questa cosa io invece ti ascoltavo con grande con grande siamo autori satirici mica per nulla insomma stiamo siamo autori satirici anche per questo per difenderci no io mi trovo uno che è stato in Turchia se ho capito bene perseguitato in Turchia per dei disegni e e e e e allora facciamo un discorso su sulla satira nei paesi totalitari e però devo saperlo dico devo saperlo no Staino viene a raccontarci Bobo e poi trovo che in realtà lo spazio non ce l'ho pensaci allora questo dibattito si intitola il disegno e politica e c'è un eh venerato maestro eh che discute eh che racconta della sua vicenda che è Sergio Staino e una giovane ma non tanto giovane perché ha 50 anni promessa questo solo per giocare con Arbasino che è Gianluca Costantini che è un autore famoso in tutto il mondo e ed è appunto quelle combinazioni impreviste che ha voluto questo questa festa di un di un anno di domani Sergio e e e giuro di avertelo detto e e e credimi che sono in perfetta buona fede mai mai fare diversamente io porterei porterei avanti questa discussione se l'avessi capito avrei detto no grazie guarda non mi fai venire io porterei avanti questa discussione se tu sei d'accordo abbiamo ancora 18 minuti e c'è tempo per raccontare un po' tutto in 18 minuti secondo me poi insomma naturalmente libero di di pensarla diversamente io e farei finire invece il discorso che aveva fatto Gianluca a proposito non svicolare perché mentre noi facciamo questa questa situazione insomma non svicolare c'era anche l'accusa di antisemitismo che è abbastanza terribile sì mi dispiace di questo disguido a me sicuramente più di te devo dire che sono un grande ammiratore di Staino tanti anni fa abbiamo fatto anche una presentazione insieme a Siena su un libro su Pertini a fumetti non so se ti ricordi Staino con con Tanti anni fa avete fatto insieme una presentazione lo dici di nuovo Gianluca su un libro su Pertini a fumetti su Pertini ah sì mi ricordo adesso sì niente così per almeno ci siamo già incontrati e ci siamo già parlati un'altra volta figurati se se avessi avuto coscienza del Ceri mi sarei preparato mi sarei capito è che così non capivo il senso di questa presenza ok per me è un piacere essere qui comunque grazie e questa accusa che io trovo la più molto peggiore di quella di terrorismo che mi è stata inflitta è surreale perché mi è stata data dalla destra americana che sicuramente loro sono più vicini all'antisemitismo di me l'ufficio di Steve Bannon a occhio direi di sì all'ufficio di Steve Bannon mentre io ero un disegnatore di CNN in quell'anno andò a tirare fuori un mio disegno del 2014 che avevo fatto durante i bombardamenti in Palestina dello Stato israeliano avevano preso questo disegno l'avevano estrappolato come si può fare adesso su internet gli avevano dato un altro contesto e mi avevano accusato per screditare CNN naturalmente CNN mi ha scritto immediatamente dicendomi che sapeva che non lo ero che appoggiavano quello che io faccio ma che non avrebbero voluto avere problemi con Steve Bannon nel suo ufficio e che quindi mi avrebbero licenziato questo devo dire che proprio oggi sul domani è stato pubblicato un articolo che parla del Pulitzer e che il fumetto politico satirico non sarà più un premio del premio Pulitzer come è sempre stato dagli anni penso degli anni 20 e questo è nato proprio con questo tipo di azioni prima di me altri autori del New York Times che avevano fatto disegni su Israele erano stati sempre accusati in questa maniera e da lì il New York Times decise di non pubblicare più disegni politici di nessun tipo quindi non solo su quel tema quindi c'è un problema negli Stati Uniti su questo argomento e i disegnatori vengono soprattutto zittiti proprio con questa accusa falsa perché noi non ce l'abbiamo con il popolo israeliano il popolo di quel paese ma ce l'abbiamo con il governo israeliano che è un'altra cosa e la Palestina per chi lavora sui diritti umani come me è sempre stato è il tema principe è il posto dove i diritti umani sono più distrattati per dire una parola gentile su tutti su tutto il popolo questo per farvela molto semplice perché raccontare questa vicenda è molto complicata perché è tutta una costruzione di twitter falsi fake news costruite appositamente per colpire una persona e colpire un giornale quindi è esperienza anche per i giornali italiani ma infatti ti ringrazio di averla voluta spiegare con le tue stesse parole perché è complicata da dire che però racconta insomma quali sono i meccanismi stritolanti anche di chi fa un lavoro come te naturalmente con Staino grazie al cielo se mi posso permettere il tono è un pochino più giocoso anzi è molto più giocoso quali sono le accuse Sergio più pesanti che ti hanno ti hanno fatto i dirigenti del PC il rapporto con le dirigenti del PC sono sempre cose di cui si può si può sorridere comunque di fronte a un fatto grosso come questo che io vi giuro non conoscevo e starei un'ora adesso a ascoltare Costantini che mi racconta questa cosa pesantissima mi sembra in cui siamo quasi in una situazione di geopolitica se ho capito bene insomma anche con i riferimenti ad Israele e compagnia bella il nostro il mio costo è stato molto molto basso perché chi in genere chi ha rotto le scatole alla satira nel PC sono state persone in genere mosse da molta vanità da molte cose e però in forme contenute quello più feroce nei miei confronti è stato sicuramente Craxi perché tutte le persone che si danno molte aree che si sentono molto pieni di se stessi sono quelli che reagiscono peggio alla satira e i due peggiori in assoluti sono proprio quelli che non reggono nessun tipo di scherzo uno è Bettino Craxi era Bettino Craxi ed uno è perché è ancora vivo Massimo D'Alema sono molto molto simili da questo punto di vista sono delle persone che non ammettano assolutamente nessuna forma di autocritica o di altre cose proprio io ho amato tanto Bettino Massimo D'Alema come ho amato tanto l'Albania ma ora ho capito che è meglio star lontano da tutti e due insomma da Veroja che da lui perché non capisce perché il terzo di questa triade si chiama Matteo Renzi e anche lui non l'ho applaudito Matteo Renzi che io ho voluto molto bene anche a lui molto bene insomma come sono a un certo punto ho detto vabbè è il segretario mi chiede chi fa il direttore dell'unità bisogna salvare l'unità mi propone ma cosa ne pensi di Cuperlo ho detto una donna mi sembra un'idea bellissima Cuperlo è l'unica cosa che si potrebbe fare con Cuperlo perché Cuperlo purtroppo è una vittima di D'Alema e quindi è rimasto traumatizzato da piccolino quando l'ha frequentato no no ma poi adesso è un grandissimo collaboratore di domani Cuperlo Cuperlo non vuol dire che avete tutti sani a domani tendenzialmente sì no te non mi fai la stalinista lavora al domani allora è bravo no Cuperlo è bravissimo è mio fratello io gli voglio un sacco di bene e sono molto legato a lui e a tutte le cose che fa se dovessi scegliere una corrente sarei con Cuperlo quindi questo non mi tocca però Cuperlo Cuperlo che ragiona benissimo abbiamo fatto insieme l'incontro a Siena in appoggio a Letta cioè c'è una unità di lavoro e di intenti con lui antichissima però lui quando si tratta di prendere una responsabilità entra in una paranoia terribile una paranoia terribile e lì quando io gli ho detto prendi te l'unità se la prendi te si cambia se la prendi te io torno a Roma gli ho detto vengo con te a Roma ti do una mano ti aiuto facciamo una cosa grossa questo ci dà in mano l'unità non la puoi e lui ha detto no non me la sento e non me la sento e io mi sono incazzato a morte con lui e ci ho leticato gli ho detto ma tu non puoi non sentire allora la prendo io l'ho presa io ho fatto una cazzata certo col segno di poi e tutto ma cosa faceva a quel momento lì lasciavo perdere un'occasione che veniva presentata con i controfeocchi la prima cosa che mi ha detto Matteo Renzi ha detto e poi non ti preoccupare dei soldi i soldi ci sono i soldi ci sono e poi prendimi in giro fai che tu vuoi tentiti libero ho capito ho detto va bene proviamo allora facciamo dopo un anno e mezzo ho capito invece che non c'era nulla 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 da fare non era possibile lavorare con una persona così e ho detto al nostro Cuperlo gli ho detto sì purtroppo sì però se c'era anche te forse si mobilitava di più non lo so non lo so questa è la situazione capisci e cosa c'è che differenza c'è fra Renzi e D'Alema c'è la differenza che tutti e due sono opportunisti vanitosi ambiziosi solo la differenza è che D'Alema ha queste caratteristiche e si muove in queste direzioni perché pensa che qualunque pensierino che ha generato il suo cervello vada a vantaggio del popolo vada a vantaggio della sinistra e invece sono delle cazzate purtroppo ma lui pensa che sono giuste l'altro qualunque pensierino che ha in testa va a vantaggio di se stesso ed è vero che va a vantaggio di se stesso questi sono i personaggi con cui più tetri con cui ha avuto che fare capisci in questa situazione senti tu stai disegnando Letta qualche volta? no non l'ho disegnato ancora non l'ho disegnato perché è la persona più anticaricaturale che conosco lui è Draghi forse sono i due ma anche Mattarella perché bisogna la satira può agire o sulla situazione generica sulle battute come spesso lavoro io con delle espressioni o sulla caricatura del personaggio famoso ma mentre capito ci sono personaggi come Salvini come Lameloni come Grillo come come lei come vari su cui poi lavorare con la deformazione lombrosiana della 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 quindi ingrandire certe caratteristiche certe espressioni e così via lo puoi fare e ci sono persone che invece sono normali sono persone che falseresti a doverle caricare da un punto di vista della della deformazione non sono loro ecco non non rientra in questa direzione io su questo ci credo moltissimo insomma infatti non mi piace quando si fa la caricatura per la caricatura insomma da questo punto di vista un Berlusconi invece figurati era un personaggio che caricaturarlo già di per sé faceva ridere insomma cioè era un'espressione lombrosiana il fisico rappresentava l'animo interno temo che non dobbiamo parlare di Berlusconi ancora in coi tempi del passato ma questa sarebbe un'altra storia e Gianluca Costantini tu intanto vorrei vorrei capire come scegli le tue cause tu sei un attivista ormai con i tuoi disegni sei un attivista dei diritti umani sostanzialmente e quando tu diciamo scegli una causa non voglio lusingarti insomma però fa la differenza naturalmente per esempio sei stato tu a raccontare la storia di Ali Al-Nimrim come si chiama come si dice Ali Al-Nimre esatto quello che dicevo io sbagliavo e lui diceva bene che è un'altra storia terribile terribile ci dici di lui abbiamo cinque minuti ci dici di lui e poi anche di come perché storie terribili ce ne sono tantissime in giro per il mondo come ti colpisce una storia com'è che diventa una una vicenda di diritti umani diventa una tua una tua scelta diventa griffata Costantini se mi permettete sui diritti umani è una cosa orrenda la ritiro subito mi dispiace di parlarvi sempre di cose tremendamente tristi però le domande sono queste no no stiamo anche a parlare di cose più allegre no no cercavo di metterla un po' più sul leggero ma perché il caso di Ali Al-Nimra è un caso tragico di cinque o sei anni fa è un ragazzo che venne arrestato minorenne in Arabia Saudita a una manifestazione era nipote di un famosissimo mullah della Saudita contro contro il governo contro il governo scusate contro il re e Ali Al-Nimra venne arrestato e gli viene data una condanna che può sembrare un po' irreale ma era la condanna di crocifissione lui è ancora vivo è ancora in carcere che aspetta l'esecuzione sono ormai cinque o sei anni adesso è maggiorenne e da allora io disegnai questi disegni che mi chiesero la famiglia di Ali Al-Nimra perché io avevo disegnato in passato delle cose di suo zio e da allora non ho mai abbandonato questa lotta prima prima abbiamo parlato di Patrick Zaki che è una lotta popolare italiana si può dire con qualche cosa all'estero ma principalmente italiana i miei disegni fanno parte di lotte anche in altri paesi di cui qui non si sente mai parlare e quelle dell'Arabia Saudita sono uno di questi oppure quelli che ho fatto per l'Eritrea è un altro posto terribile di cui adesso non vi voglio parlare qual'era la seconda parte della domanda? come scegli come scegli come scegli come scegli come scegli come ho detto prima ormai io eseguo nel senso che mi dà talmente piacere fare le cose che mi chiedono e soprattutto mi chiedono mi arrivano da paesi e posti che io non potrei conoscere cause che non potrei conoscere che mi piace poi subito parlarne perché grazie alla Twitter riescono poi a aprirsi dei canali con tanti altri organizzazioni figure giornalisti che fanno magari approfondimenti io faccio semplicemente il disegno che fa scattare un po' la dinamite poi sono gli altri che fanno il lavoro serio quindi è questo il modo in cui lavoro ultimamente abbiamo due minuti e trentotto e adesso Sergio si arrabbierà con me vorrei chiedergli sono già arrabbiato benissimo non perdiamo tempo nei secondi preziosi te la perdono questa aspetta non perdiamo tempi preziosi perché ti devo fare una domanda e tu non vedi quasi più quello che disegni come come è cambiato il tuo modo di ridere su questo di fare satira su no non è cambiato non è cambiato non c'entra minimamente mi incazzo perché è cambiato dal punto di vista dei tempi prima facevo una vignetta una pagina dell'unità in pochi minuti in qualche ora si era grande complessa ora i tempi si sono allungati ho bisogno di un aiuto continuo fortunatamente ho il figlio che disegna molto bene da fin da piccolina ha cominciato ad aiutarmi ora ha 40 anni fa la sua vita però con l'internet gli mando le cose e lui me ne sistema fa l'editing ora per le cose più grandi più complesse come le pagine che faccio sullo specchio della stampa le firmiamo tutte e due è giusto firmarle entrambe perché io i colori non li vedo più sono parecchi problematiche però lo spirito lo spirito satirico rimane quello funziona si vede dalle reazioni degli interessati e del pubblico insomma quindi non ho fatto vignette sulla cecità prima o poi dovrò decidermi insomma a fare perché è anche divertente prenderla sotto certi da un punto di vista ironico insomma però per il momento non è è partito qualcosa di un bobo con gli occhialini neri il cane il cane guida che già di per sé mi fa sorridere a fare queste cose qui la fortuna veramente la fortuna che poi non so da dove viene è di avere un carattere che che insomma non mi arrendo mai questa è una cosa e quando faccio e quando ho cominciato questa storia degli occhi ho scoperto che prima il cervello non pensavo mai che il cervello avesse tante possibilità nascoste per poter resistere alla sfortuna di una parte fisica che non funziona e questo mi ha aiutato tanto e poi la tecnologia lo sviluppo della tecnologia il computer le cose mi hanno mi hanno aiutato tantissimo quando faccio gli incontri con i giovani ipovedenti che sono tantissimi in Italia tantissimi con i giovani ipovedenti la cosa più bella dare questa fiducia grazie non pensavo che sarei arrivata alla fine di questo incontro grazie a Gianluca Costantini grazie a Sergio Staino infinitamente grazie a tutti voi e adesso il gran finale che già avete avuto diciamo un esempio di gran finale ma adesso è il gran finale di questa nostra festa di domani e vi ringraziamo per l'ostinata pazienza con cui ci avete aspettato e ci avete seguito in questo anno Chiara Tagliaferri e Michela Murgia per le loro storie libere questa si intitola L'uomo ricco sono io attenti attenti a quelle due grazie a tutti a tutte